Bene, buonasera a tutti. Benvenuti a questo secondo incontro tra cielo e terra, sempre ospitati in questa bella sala del comune che continuo a ringraziare per l'ospitalità che ci dà. Stasera abbiamo una veterana dell'osservatorio che è la dottoressa Camilla Galli, scusate, Giuditta Galli, primo lapsus perché Camilla che è la nostra meteorologa è sorella di Giuditta, entrambe laureate in geologia, infatti è in questo contesto che si inserisce la bella chiacchierata di oggi dove nel tempo di 60-70 minuti concentrerai 300 milioni di anni di storia, la storia geologica del nostro territorio, quindi penso a un racconto interessante insomma per conoscere meglio anche la natura che ci circonda, le nostre montagne, i nostri laghi, cosa c'era in passato. Senti, grazie, ti passo la parola. Buonasera, Luca ha detto più o meno 60 minuti, io pensavo 300 milioni di anni, più o meno questa come idea, però vedrò di stringere un po', se divento noiosa fatemi un cenno che stringo ancora di più. Allora, l'idea di questa conferenza è nata da alcuni reperti che sono stati trovati a campo dei fiori durante la costruzione dell'osservatorio, erano gli anni 60 quando il professor Furia ha iniziato la costruzione, scavando proprio il basamento dell'osservatorio si ritrovano questi sassi, fra virgolette, come li chiamano normalmente le persone, noi li chiamiamo campioni di roccia, che avevano una particolarità, all'interno erano pieni di piccole conchigliette, conchigliette particolari, in particolare ammoniti oppure dei pecten. E così mi è venuta l'idea di proporre una conferenza che potesse far capire, anzi dare una risposta a una domanda, ma c'era il mare in cima al campo dei fiori oppure non c'era il campo dei fiori e c'era il mare? Perché spesso quello che si sente dire è, ah una volta qui era tutto sommerso dal mare, era tutto mare, in realtà non era proprio così, adesso andiamo a vedere il perché, in realtà una volta non c'era quello che c'è adesso, quello che noi vediamo. la nostra storia è divisa in tre ere, l'era paleozoica, l'era mesozoica e l'era cenozoica, che sono praticamente le tre ere in cui viene diviso il tempo dalla formazione della terra ad oggi. Le rocce più antiche che noi troviamo in provincia di Varese risalgono a circa 300 milioni di anni e sono queste rocce qui, sono delle rocce metamorfiche, cioè delle rocce che si sono trasformate, derivano da vecchie rocce e si trovano nella parte settentrionale della provincia di Varese. Questa è una carta geologica, quindi è una cartina che ci fa vedere qual è la geologia, quali sono le rocce che sono presenti e che affiorano o che stanno appena sotto la superficie in provincia di Varese. I vari colori indicano rocce di tipi diversi. Nella parte nord della provincia di Varese affiorano queste rocce, magari le avete viste perché le utilizzavano per fare il tetto delle baitine, delle montagne, le chiamiamo anche beole. Queste rocce sono quello che rimane di un antico oceano, ma tanto tanto antico e quindi a Varese c'era il mare, diciamo che nella zona dove adesso c'è Varese una volta c'era il mare. Questa è una ricostruzione paleogeografica di quella che è la situazione del mondo circa 300 milioni di anni fa. La data è sbagliata, sarebbero 290, mi è scappato via un 100 milioni di anni. Noi cosa troviamo? La Terra è divisa in due grandi continenti, la Gondwana e l'Euramerica. In mezzo c'è un oceano, l'oceano Reiko. L'Italia si trova qui. Per comodità, l'ho sempre indicata da questo bel bollino rosso, così si capisce bene dove siamo. Siamo in una zona di mare tra due oceani. L'oceano che ha una particolarità. Questa grande placca, cioè questa zona continentale, si sta pian piano spostando verso nord e si infila al di sotto di questo continente. Infilandosi al di sotto, pian piano trascinerà con sé anche la nostra zona, che subisce una prima trasformazione. Quali erano le condizioni? Le condizioni ambientali erano queste. Mare, caldo, sole. Probabilmente molti di voi vorrebbero che il varisotto fosse ancora così, sono sicura. Vediamo strani animaletti, animaletti che magari non esistono neanche più nei nostri mari. Troviamo trilobiti. I trilobiti sono questi piccoli animaletti chiamati trilobiti perché avevano il corpo diviso in tre parti. Oppure diciamo che erano un po' come i gamberetti del passato. Con una piccola particolarità. Erano gamberetti del passato ma molto più grandi. Nel senso che, come si vede da questa immagine, arrivavano anche a 40-50 cm di dimensione. C'erano grandi, c'erano piccolini. E abitavano sul fondale marino. E ovviamente essendo gamberetti venivano predati dagli animali più grandi che vivevano in quell'oceano. Oltre loro abbiamo le ammoniti. Le ammoniti hanno una storia lunghissima. Le ammoniti compaiono circa 500 milioni di anni fa, per cui molto prima, e dureranno tanto tempo. Cioè nelle rocce fossili di ammoniti le troviamo per tanti, 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 tanti milioni di anni. E proprio perché le troviamo così tante, sono utilissime per capire qual è l'età delle rocce che noi stiamo studiando. E anche le ammoniti in quel periodo soffrono di gigantismo. Infatti questo periodo, il devoniano, il carbonifero, è proprio un'epoca che viene definita l'epoca del boom della vita. compaiono i vertebrati, gli invertebrati, le piante, prima le felci, poi gli equisetti, le piante col fiore, di tutto. Ma tutto con dimensioni enormi. Cioè voi andavate a fare un giro nella foresta, ho perso un pezzo del puntatore, ma fa niente, e vi trovavate un a mille piedi, da un metro e mezzo. E sopra di voi una libellula delle dimensioni di un elicottero. E le felci erano grandi anche loro. Cioè praticamente noi nel devoniano saremmo stati dei puffi. I fossili di puffo però non sono stati trovati nel devoniano. Per ora no. Questa ammonite mostra proprio di fianco una pala che vi fa capire quanto è grande. L'ultimo che vediamo sono i crinoidi. I crinoidi sono quelli che vengono chiamati gigli di mare. I crinoidi abitano ancora nei nostri mari. I crinoidi sono organismi veramente tosti, perché riescono a sopravvivere praticamente dal cambriano ad oggi. Quindi noi li troviamo fossili e ne troviamo di tanti tipi diversi. Possiamo capire qual è l'evoluzione che hanno avuto. Ma di tutti questi gli organismi che vi ho passato, in provincia di Varese non ne abbiamo traccia. Potevo anche evitare questa cosa, dirvi il vero. Però era interessante perché è un periodo importante. Nel senso che purtroppo, mentre noi troviamo questi fossili sulle alpi carniche, loro da questo punto di vista sono stati un po' più fortunati, da noi man mano che la gonduana si scontra con l'Euramerica, scusatemi, è un continente un po' difficile da pronunciare, con questo trascina con sé l'Italia, che man mano sprofonda al di sotto e le rocce, i sedimenti marini nei quali stavano i resti di questi organismi viventi, che magari erano anche già diventati fossili, si trasformano come il pongo. Voi prendete il pongo rosso, prendete il pongo blu, lo mescolate e viene fuori il pongo verde, viola, scherzavo, viola. Per fare il pongo viola cosa avete fatto? Avete scaldato e schiacciato senza fondere. Questo è quello che succede. E così si formano le rocce metamorfiche della parte nord della provincia di Varese. Quindi noi non abbiamo testimonianze dirette di quella fase della nostra storia. Quello che abbiamo ricostruito abbiamo potuto ricostruirlo basandoci sulla posizione su quello che è stato trovato in altre parti non solo d'Italia ma anche del mondo. Passiamo oltre. Siamo alla fine del paleozoico. Come vedete l'Italia è finita. Prima di tutto scusatemi, il continente, i due continenti non sono più due continenti ma abbiamo un unico grande continente. La zona dove si sono scontrati i due continenti in parte formerà i monti appalachi che quindi pensate risalgono a circa 300 milioni di anni fa. E anche noi ci troviamo qua. Ci troviamo in una zona più o meno elevata. Siamo fuori dal mare però come vi ho detto rimarrà poco niente perché andiamo a finire in subduzione. Notate un'altra cosa. L'Italia non si trova qui. Questo è l'equatore. Noi non siamo a nord dell'equatore a 45 gradi di latitudine. Noi siamo sotto l'equatore. E altra cosa carina è che si forma nella zona in cui attualmente c'è l'Antartide perché capite che in geologia è sempre un po' un problema perché si parla dei continenti ma i continenti non sono esattamente dove li definiamo noi. Per esempio in questo caso l'Antartide più o meno c'è. A volte era anche più su. Tutta la parte sud del mondo è interessata da una glaciazione. Un'enorme glaciazione di cui si trovano le testimonianze ma in America. Da noi ve l'ho detto. Tutto cancellato dal metamorfismo. Alla fine del Permiano quindi noi siamo in una zona che è in parte emersa e in parte invece ancora sommersa. Però siamo vicino alla linea di costa. Quindi essendo vicini dal continente scendono verso il mare i detriti portati dai fiumi che pian piano si accumulano. Si accumulano, si accumulano, vengono schiacciati e vanno a formare delle piccole delle rocce che noi troviamo solo in alcune piccole parti qua nella zona di Mesenzana che proprio ci testimoniano il fatto che l'area del Varesotto era fuori dall'acqua per un periodo. Nello stesso periodo, a causa proprio della collisione, nella zona che adesso è questa qui rossa, cioè la zona tra la Val Ganna, la Val Ceresio, parte qui dove c'è Morcote, si instaura una zona di caldera, un po' come i campi flegrei, cioè un'enorme camera magmatica o Yellowstone, un'enorme camera magmatica sotterranea con dei vulcani che fanno eruttare lava e noi abbiamo le testimonianze. Per fortuna queste testimonianze le prove ce le danno in diretta perché non sono state portate in profondità durante la collisione. L'immagine ricorda di più il Monte Fatto del Signore degli Anelli, non so, mi spiace, ma purtroppo ho trovato solo questa. È un po' catastrofica, secondo me la situazione era un po' più tranquilla all'epoca. Però cosa succede? Abbiamo delle enormi camere magmatiche, abbiamo dei vulcani che producono quelle che sono le rocce che noi troviamo per esempio a Quasso al Monte, i famosi porfidi di Quasso, che sappiate tutto, tutti geologicamente si chiamano granofiri, non sono porfidi. Ma fa niente, ormai è passato il nome così commercialmente e ce lo otteniamo. Queste rocce sono rocce quindi di tipo magmatico, derivano dalla solidificazione del magma che avveniva a bassa profondità. Quindi i minerali crescevano poco e all'interno proprio delle rocce magmatiche troviamo dei bei cristalli, ametista, quarzo, ametista, felspati e così via. Queste rocce ci testimoniano un ambiente emerso, quindi il mare di cui parlavamo prima non c'è più. Alla fine del Permiano, tra il Permiano e il Triassico, avviene uno degli eventi più catastrofici della storia della Terra, l'estinzione permotriassica. Siamo qui. Spesso i periodi geologici sono separati gli uni dagli altri da degli eventi catastrofici. Noi siamo delle persone estremamente positive in questa cosa, eh? Sì, ci piace molto. Se c'è una cosa che fa morire tutti, a noi è utile perché sappiamo che lì sono morti tutti. I nostri gamberetti dell'epoca non riescono a sopravvivere. Non si sa ancora bene perché c'è stata questa estinzione. Dicono che probabilmente, cioè dicono, scusatemi, alcuni studi, perché dicono sembra un po' bar, eh? In alcuni studi si parla di intrusione di filoni, cioè di formazione di camere magmatiche molto grandi nell'area della Siberia con eruzioni vulcaniche. Le eruzioni vulcaniche hanno portato a un aumento della CO2. Vi faccio notare un attimino il parallelo con l'attuale, la nostra situazione attuale. Aumento della CO2 nell'atmosfera. Le condizioni di vita per gli animali terrestri diventano meno favorevoli, ma un aumento della CO2 nell'atmosfera determina un aumento della CO2 nei mari. E gli organismi marini non riescono più a vivere acidificazione degli oceani. Guarda caso, ne hanno parlato ieri al telegiornale, giusto per far capire che ci siamo già passati da questa cosa. E quindi, aumento dell'effetto serra, aumento del calore, gli organismi viventi non riescono a stare al passo, non c'è, non ci sono degli scatti evolutivi, non compaiono, almeno molti degli organismi non riescono più a stare in queste condizioni, si estinguono tra questi trilobiti. Se voi trovate un trilobite o se in una roccia si trova un trilobite, sicuramente quella roccia avrà più di 250 milioni di anni, perché trilobiti non sono riusciti a superare l'estinzione. Estinzione, vi dicevo, di massa, circa il 95% delle specie marine sono estinte e circa il 70% di quelle terrestri, che è una quantità enorme, se ci pensate bene. Cosa succede? Noi ci troviamo adesso qui. Abbiamo questo grande continente, che poi diventerà la Pangea, quello che si chiama Pangea, circondato da un enorme oceano che è la Pantalassia, all'interno, sul fianco di questo oceano, si forma quello, un piccolo oceano più interno, che si chiama Paleotetide, la prima tetide. Noi ci troviamo qui. Siamo in una zona marginale di questo oceano in una posizione di piane, di lagune, zona di marea, quindi è tornato il mare. È tornato il mare perché? Perché le condizioni sono cambiate a causa della tettonica o c'è stato l'innalzamento. Solitamente cosa succede? Che a causa della tettonica il continente si abbassa e quindi a me, che sono sul continente, mi sembra che si stia alzando il livello dell'acqua. In realtà è perché noi ci stiamo pian piano infossando, abbassando. Quindi da zona emersa arriviamo ad una zona di marea, su questo bordino qua. In questa zona di marea si formano delle rocce particolari che costituiscono buona parte della provincia di Varese. In particolare troviamo qua, nella zona di Saltrio e poi di Besano, quelli che sono gli scisti bituminosi, importantissimi perché lì hanno trovato molti dei fossili inerenti a questo periodo, al Triassico e al Giurassico, adesso ne vediamo alcuni, che hanno permesso proprio la ricostruzione degli ambienti marini che c'erano all'epoca. E poi, dopo gli scisti bituminosi, tutta la parte centrale del Varese 8 è formata da serie sedimentari e carbonatiche. Che cos'è una serie sedimentaria carbonatica? È una cosa che ai geologi piace un casino, perché nel passato ce ne erano tantissime. Pensate che tutte le Dolomiti sono delle serie carbonatiche, in posizione di vita, cioè così come si sono formate sono restate. Per farvi capire cos'è una piattaforma carbonatica prendiamo le Bahamas. All'epoca eravamo alle Bahamas. Palmette, pesciolini, clima caldo, ci sono gli atolli. Attorno gli atolli, quindi noi abbiamo un basamento, che può essere un vulcano sommerso, un corrugamento del fondo marino, sul quale cresce una scogliera, quindi ci sono degli organismi viventi che costruiscono, che possono essere coralli o possono anche essere altri animalettini con il loro guscio. E all'interno, tra la scogliera, che è la barriera corallina, e la parte centrale abbiamo la zona di laguna, mentre di fuori abbiamo la parte di avanscogliere, quindi man mano andiamo verso il mare aperto. Questa è la situazione che caratterizza sia la nostra area, ma tutta l'area che va dalla provincia di Varese, arriva fino alla Carnia. Tutto il nord Italia era costituito così, come le Bahamas. I coralli crescono, i coralli, come sapete, hanno uno scheletro di carbonato di calcio, di calcare, e con la loro forma manina intrappolano i gusci degli altri organismi viventi, per esempio i gusci dei bivalvi, delle ammonite e così via, che man mano vengono frantumati dal moto ondoso. Si accumulano e poi a causa del loro peso e a causa dei sali presenti nell'acqua cementano, diventano odori e formano delle rocce, formano i calcari. Il campo dei fiori ha una barriera corallina. Tra una barriera corallina e l'altra, vedete queste sono le barriere coralline, ma tra una barriera corallina e l'altra, ci sono delle zone di mare più profondo, di mare aperto, ok? È un po' come andare sul Mar Rosso, mi hanno detto, cioè io non sono mai andata, però la cosa è quella, c'è la laguna, la parte di alta e bassa marea, poi avete la barriera corallina che scende giù a picco e avete l'ocea, il mare aperto. In queste zone di mare aperto davanti alle scogliere vivono anche dei grandi dinosauri, vivono gli ammoniti, quelle ormai abbiamo capito, e vivono anche i crinoidi, perché anche loro ci sono sempre, vivono anche i grandi dinosauri. Questa è la ricostruzione di un ammonite, col suo animaletto, coi tentacolini. Gli ammoniti vivevano nella colonna d'acqua, cioè galleggiavano a metà dell'acqua, della profondità più o meno su o giù e si facevano trasportare dalle correnti marine. Avevamo pesci, di qualsiasi tipo, avevamo i grandi dinosauri marini come per esempio il besanosauro, che è quello che è stato trovato proprio a Besano, che era un dinosauro marino che cibava dei pesci che vivevano in questo mare che era un mare caldo. E questa è un po' una ricostruzione della zona di Besano all'epoca. Quindi calduccio, palme, più o meno, cicas, un po' di felci, cose del genere, la barriera corallina, e poi avevamo questi dinosauri, alcuni con il collo più lungo, il tanistrofeus, il besanosauro. La caratteristica della zona di Besano è una, che il mare aperto in cui vivevano questi animali scendeva in profondità, la profondità del mare era alta. Nella parte bassa si sono formate condizioni di anossia, cioè mancanza di ossigeno. Noi eravamo vicini alla costa, quindi i torrenti portavano giù con le piogge e i sedimenti che si accumulavano nella parte bassa di queste fosse. Gli animali, come tutti a un certo punto della loro esistenza, morivano, cadevano sul fondo, ma proprio a causa dell'anossia, della mancanza di ossigeno non venivano completamente decomposti. E quindi i loro scheletri sono rimasti intrappolati all'interno dei sedimenti e sono arrivati fino a noi. Questa è un'immagine della roccia, degli scisti bituminosi, che si chiamano così proprio perché hanno un'enorme quantità di materia organica, talmente alta. Allora da qua si estraeva il famoso ittiolo, quell'olio minerale e si estraeva riscaldando la roccia, riscaldando la roccia l'olio che non è altro che i dinosauri di una volta che erano stati semi decomposti e che sotto il peso si sono schiacciati. Dicevo quest'olio qui poi veniva usato anche per curare i difetti, una volta veniva usato per i difetti della pelle e così via. E se si trovano i pezzi giusti, i frammenti giusti, la quantità di olio, di bitume che c'è all'interno è talmente alta che con l'accendino prende fuoco, proprio perché è l'olio minerale che c'è al suo interno. E nella zona di Besano ci sono ancora le cave che si possono visitare, c'è un bel itinerario che passa per le cave e hanno estratto tanto, tanto hanno estratto e secondo me tanti dinosauri li hanno macinati. Secondo me tanto è anche stato portato via, tanto all'epoca non era tanto importante il dinosaurio. Siamo nel Triassico, giusto per farvi capire, questa è sempre la Pangea, noi siamo sempre qui, il tutto si è un po' spostato, si è un po' riassettato. Inoltre il grande oceano che era la Paleotetide a un certo punto a causa della tettonica placche si infila al di sotto di questo bel continente e pian piano, visto che non siamo contenti, visto che la Terra è un pianeta attivo, qua si forma una zona di dorsale oceanica. Se nelle zone di subduzione la crosta scende e viene distrutta, nelle zone di dorsale si produce nuova crosta e qua si sta producendo nuova crosta, la magma risale, spinge lateralmente e man mano sposta i continenti. Dicevo, noi ci troviamo ancora qui, siamo in una zona di piattaforme carbonatiche e questa è una bella ricostruzione che ci fa vedere quella piccola parte, per farvi capire, la parte qui del tondolino, questa qui, è ingrandita in questa immagine. Quindi qua abbiamo la terra ferma e queste qua in bianco sono le piattaforme, le zone di piattaforma e tra una e l'altra queste sono le zone di mare profondo nelle quali viveva il besanosauro e tutti i suoi amici acquatici. Le varie placche, le varie zone che poi si muovono prendono vari nomi, abbiamo quindi l'Africa, l'Eurasia e così via. La piattaforma... oh no, scusatemi, c'è stato un problema, c'è stata una fase tettonica proprio oggi pomeriggio, non so cosa è successo ma mi si è schiacciato un po' il campo dei fiori. Ok? Sì, nel senso che, allora, la piattaforma carbonatica che ci interessa è il campo dei fiori. Il campo dei fiori non è altro, è questo, sembra l'Everest ma in realtà è il campo dei fiori, non so perché facendo il copia, adesso copiando il file mi si è ristretto, mi si è un po' schiacciato tutto. Questa è una sezione che parte da Varese, taglia il campo dei fiori, va giù in Valcuvia e risale al Monte Colonne, ok? E che ci taglia come una fetta di torta la crosta terrestre ci fa vedere gli strati. Il campo dei fiori, se qualcuno ha girato un po', ha dato un'occhiata ogni tanto, so che è una cosa un po' strana da dire perché nessuno va in giro a guardare, pochi vanno in giro a guardare le rocce, gli strati di roccia che formano il campo dei fiori sono tutti inclinati, ma di questo ne parliamo dopo, ne parliamo tra poco. Il campo dei fiori ci racconta la storia delle barriere coralline che si trovavano in quell'angolino lì di oceano di cui abbiamo parlato prima. Si parte da una zona di mare profondo con delle formazioni che da noi affiorano pochissimo, affiora qualcosa a nord del campo dei fiori, dopodiché il suolo, quindi questa placca, si abbassa e quindi passiamo a una zona di marea, poi passiamo alle zone di piattaforme, poi viene risollevato, quindi agli abitanti sembra che il livello del mare sia bassi, quindi abbiamo una zona di mare basso e poi ancora a causa del peso dei sedimenti, sì, la piattaforma si abbassa di nuovo e a noi sembra che il livello marino aumenti. E noi abbiamo ancora le testimonianze di questo mare, quindi c'era ancora il mare, siamo circa intorno ai 200 milioni di anni. La zona è questa, siamo vicino alla costa e questo lo sappiamo da un ritrovamento che è stato fatto nel 2000, intorno al forse 2001, che è questo qui. Questo qui è il saltriosauro. Fino agli anni, fino al 2000, sì, scusate, il saltriovenator, all'inizio si chiamava saltriosauro, adesso è stato rinominato saltriovenator. Fino intorno al 2000, alla scoperta di questo dinosauro, si pensava che la nostra zona fosse solo una zona di atolli, di barriere coralline. Quando hanno trovato questo animaletto qui, questo potete andare a vederlo perché è a saltrio. A saltrio hanno fatto un bel percorso che sale su alla cava e poi arriva su al pravello, quello lì, il pianbello e quell'altro, al pravello, e appena sopra al paese c'è una ricostruzione in dimensioni reali del saltriovenator, che è questo qui. Del saltriovenator hanno trovato solo alcune parti e per confronto con altri dinosauri simili, viventi in quel periodo, sono riusciti a ricostruire il dinosauro. Un dinosauro di queste dimensioni dimostra che non era possibile che ci fossero solo delle piccole isolette separate, perché com'è che faceva mangiare? Questo mangiava tanto, o pescava, ma non aveva le braccine troppo corte per la canna da pesca, quindi non poteva pescare. La cosa più facile è che ci fossero dei ponti di terra, cioè dei ponti, degli istmi, dei collegamenti con la terra ferma, che permettevano a questi animali di spostarsi verso zone in cui c'era una quantità di cibo maggiore. E quindi vedete che man mano che noi troviamo dei fossili, man mano modifichiamo la storia, man mano sistemiamo un po' qual è la storia che avevamo ricostruito con quello che sapevamo. Alla fine del giurassico siamo sempre, noi siamo sempre qua, quindi per tutto il triassico, il giurassico e parte del cretaceo, siamo in zona di piattaforma, il mare c'è, è un mare calduccio, è un mare dove ci sono i trilobiti, i crinoidi, ci sono tutti gli itiosauri e tutti gli animaletti, ci sono anche queste strane bivalvi, questi sono dei bivalvi, sono come le cozze, però si chiamano rudiste. Le rudiste non sono sopravvissute, loro hanno avuto storia breve, probabilmente la loro forma non era proprio delle migliori. Ce ne erano alcune fatte così a semi a luna, a falce di luna, dove questa era l'apertura. E poi qua dietro anche queste specie di torri sono sempre delle rudiste che avevano una conchiglia molto sviluppata a forma di secchiello e l'altra valva, l'altra parte della conchiglia era un tappo che si apriva e si chiudeva. Ok, non voglio annoiarvi troppo, quindi andiamo avanti, nel tardo cretaceo siamo sempre fondali marino. Noi e tutto il nord Italia continuano a depositarsi piano piano i gusci degli organismi viventi, continuano a formarsi tutte le nostre rocce e le serie sedimentarie che noi adesso abbiamo. Fino ad un nuovo passaggio. Vedete, prima era il passaggio qua, tra il paleozoico e il mesozoico. Adesso siamo tra il mesozoico e il cenozoico. Secondo voi cos'è successo? Sono morti tutti un'altra volta. Eh sì, e questo è quello che è successo. Cosa succede? 65 milioni di anni fa c'è l'impatto di un grande asteroide delle dimensioni di 10 km di diametro, l'impatto avviene qua, nella zona all'epoca questa, quella che attualmente è la zona del Golfo del Messico, l'impatto determina una modifica del clima talmente accentuata che gli organismi viventi non riescono a, l'evoluzione non riesce a farli adattare. Cioè, purtroppo questi non sono adatti all'ambiente che si forma. Non è solo il fatto, attenzione, che quello che si sa di solito, cioè, cade l'asteroide, inverno nucleare, quindi abbiamo grandi quantità di polveri nell'atmosfera, fa un freddo allucinante su tutto il pianeta, i dinosaurini che erano a sangue caldo, freddo, scusatemi, a sangue freddo, quindi avevano bisogno di stare al sole a scaltarsi, non hanno abbastanza calore e quindi schiattano tutti. Questo però non andava tanto bene. Gli studi successivi dimostrano che non è stato solo questo, a determinare l'estinzione. Ma, da una parte, come vedete, perdiamo un'altra volta l'80% delle specie, anche marine. Ma, cosa succede? Il raffreddamento del clima fa sì che la vegetazione cresca di meno e i carnivori mangiavano gli erbivori. Ma se gli erbivori non hanno da mangiare, schiattano loro e poi muoiono di conseguenza anche i carnivori. L'estinzione non è stata, cioè, asteroide muore tutta la Terra. Sì, asteroide muore tutto quello che c'era intorno al Golfo del Messico. Però poi, nelle centinaia di anni successive, il cambiamento del clima ha fatto sì che non ci fosse più da mangiare e questi sono morti. Chi è che è riuscito a sopravvivere? Sono riusciti a sopravvivere i piccoli animaletti, non i grossi animali. Perché immaginate quanta balle di fieno doveva mangiare uno di quelli, un diplodoco. Cioè, ce ne voleva così, nel senso, gli elefanti mangiano tanto, ma gli elefanti sono piccolini al confronto. Quindi ci voleva tanto verde, tanti vegetali che non c'erano più. E gli organismi muoiono. In mare, cosa succede? Fa freddo. E, giusto per ricollegarci a quello che si diceva dello sbiancamento dei coralli, i coralli, per esempio, che costruivano le grandi barriere coralline, sono degli animaletti estremamente, passatemi il termine, fighetti. Cioè, loro vivono solo a una determinata percentuale concentrazione di sale e solo in un certo intervallo di temperatura e di luce. Se no, loro non riescono a vivere. Un gran freddo li fa morire. Quindi abbiamo l'estinzione di tanti organismi perché le condizioni ambientali non sono più favorevoli. Tra questi, le ammoniti. Purtroppo le ammoniti ce le giochiamo tutte. Adesso noi abbiamo un parente delle ammoniti, che è il nautilus, che sono quelle conchiglione marine, a forma proprio di chiocciola, che galleggiano anche loro, si fanno portare dalle correnti, che erano dei parenti delle ammoniti e che sono riusciti a tirare avanti un po' di più. Quindi, se in una roccia trovate delle ammoniti, la roccia ha più di 65 milioni di anni. Le rocce del campo dei fiori che vi ho fatto vedere, quel pezzo, quel campione di roccia trovato dal professor Furia, ha più di 65 milioni di anni. Lo sappiamo perché ci sono delle ammoniti. Ed entriamo nel nostro ultimo periodo. Questo qui, l'era cenozoica. L'era cenozoica è carata... Ah, no. Scusatemi, eh. Ah sì. Nell'era cenozoica avviene un altro grande fenomeno. Siamo sempre al passaggio qui tra il Cretaceo e il Terziario, l'era terziaria. Ci troviamo qua. Guardate che viaggio che ha fatto l'Italia. Era qua sotto. E grazie alla tettonica placche, cioè allo spostamento delle placche oceaniche, è riuscita a portarsi più o meno alla nostra latitudine. L'altra cosa che però notiamo è che c'è una grande divisione tra anche l'Africa. Scusatemi, mi manca una diapositiva. Ah, mi serve questa. se no non si capisce. Chiedo scusa. Allora, qui c'è il grande impatto. Qui da noi cosa si vede? Si vede l'Africa. L'Africa si sta spostando verso nord. La tetide, l'oceano, non c'è più. Ok? La Pangea, il grande continente, si è frammentato e l'oceano si infila al di sotto della Eurasia, si chiama, di questo continente. l'Africa spinge verso nord, pian piano si infila sotto e lungo tutta questa linea si formeranno le grandi montagne della nostra zona, dell'Eurasia, dell'Europa e dell'Asia. Le Ande sono un altro discorso. Da noi cosa succede? Noi siamo in una prima fase ancora sotto il livello del mare, ma la spinta dell'Africa sull'Europa fa sì che la nostra zona pian piano venga basculata, venga piegata e venga innalzata. Quindi dalla zona di piattaforma le piattaforme pian piano escono dall'acqua e si depositano in sedimenti portati dai fiumi e dai torrenti. Depositi che noi troviamo nella parte più bassa della provincia di Varese. Prendono il nome di Gonfolite. Se volete li potete vedere dove c'è la Mazzucchelli, giù lungo l'Olona. Prendete la vecchia ferrovia della Valmorea, appena dopo la Mazzucchelli vi trovate una grande parete formata da tanti ciottoloni. Quei ciottoloni lì sono rotolati giù dalla catena alpina che si stava formando e pian piano si sono erosi via via circa 30 milioni di anni fa. In questo periodo quello che succede quindi è che si formano tutte le catene montuose. Basta, il mare non c'è più da noi perché pian piano la catena alpina si solleva e quindi invece di andare al mare ci tocca andare a fare trekking. Oltre a noi, alle Alpi, in quel periodo si formano anche i Pirenei, gli Appennini, tutti i Carpazzi e tutta l'area, i Balcani e così via fino alla catena dell'Himalaya. Vedete? Questa è una grande cicatrice che fa vedere lo scontro che ci mostra lo scontro di due continenti. A sud abbiamo l'Africa, la penisola araba e l'India e a nord l'Eurasia. Cosa succede al campo dei fiori? Anche il campo dei fiori viene spinto verso l'alto. viene spinto e viene innalzato e quindi gli strati di sedimenti della mia piattaforma carbonatica non sono più orizzontali ma io li trovo inclinati. La spinta era strana, cioè non era per noi da nord a sud contro l'arco alpino ma ha avuto una certa rotazione per cui nella zona della Val d'Aosta addirittura la placca Adria come si chiamava la placca sulla quale si è formata l'Italia va a finire in profondità e viene tutta trasformata viene metamorfosata. Da noi che eravamo un po' più lontani dalla zona di collisione abbiamo solo questo basculamento questa rotazione. Nelle Dolomiti che erano ancora più lontane le piattaforme carbonatiche rimangono con strati orizzontali lì si legge la storia geologica non deformata dagli eventi tettonici. E ormai siamo arrivati a circa 24 milioni di anni. Questa più o meno è la situazione una situazione molto simile alla nostra. Lo scontro tra l'Africa l'Arabia l'India continua ancora perché continua ancora adesso cioè le Alpi sono in sollevamento così come tutta la catena himalayana questo porta all'emersione di tutta la nostra zona ma c'è anche una cosa particolare perché si è formato intanto l'oceano atlantico che prima non c'era perché prima il Nord America era attaccato all'Africa e anche il Sud America adesso si apre tutto l'oceano atlantico ma qua rimane chiuso. se vedete l'ingresso dell'acqua nell'area mediterranea avviene dalla penisola arabica avviene dall'altra parte rispetto ad adesso ok noi vi dicevo siamo in una zona un po' sommersa un po' no un po' sì un po' no ok detriti e cose del genere fino a 6 milioni di anni fa 6 milioni di anni fa si verifica un altro evento catastrofico siamo qui siamo al passaggio tra il miocene e il pliocene se riuscite a vedere bene questa è la Spagna questa è l'Africa ok questa è l'Italia ok questo possiamo immaginarlo come un paleopo che viene giù fino a qua questa si riconosce un po' la Sicilia la Sardegna cosa succede? a causa della spinta dell'Africa e dell'Arabia sull'Asia si chiude la zona dello stretto di Suez il Mediterraneo diventa un lago un enorme lago salato che nel tempo evapora via via e nell'evaporando si concentrano i sali diventa un enorme salina un enorme salina che determina la precipitazione e l'accumulo di enormi quantità di sale le prospezioni geologiche per la zona qua del Mediterraneo ci hanno fatto dei buchi sotto il fondo del Mediterraneo hanno visto dei sedimenti anche fino a mille metri di sedimenti contenuti di evaporiti cioè di rocce legate all'evaporazione contenuti di sale di sal gemma sotto il Mediterraneo c'è un enorme strato di sale ovviamente il mare ce lo siamo giocati qua non ce l'abbiamo più già la catena alpina ci stava sollevando adesso addirittura per andare al mare dovevate andare in Sicilia ma non perché fa caldo perché c'è il mare perché più su il mare non ce l'abbiamo e ovviamente qui da noi torrenti che portano verso sud i detriti della catena alpina perché ovviamente la catena alpina si solleva ma intanto l'erosione la erode allora la catena si alza se va su più velocemente di quanto l'erosione non la grattugi via non la livelli via e quindi si accumulano la gonfolite e tutti quei sedimenti 5 milioni di anni fa finalmente si apre lo stretto di Gibilterra a causa del continuo movimento della placca della rotazione dell'Africa si apre la zona dello stretto di Gibilterra tutto il Mediterraneo viene inondato nuovamente torna il mare la linea di costa è anche più alta rispetto all'attuale ok probabilmente noi eravamo anche un po' più bassi perché la catena alpina si stava sollevando e vedete tutta la pianura padana è allagata è alluvionata è l'ultimo periodo in cui c'è il mare qui da noi nella nostra zona non si ritrovano tanti sedimenti di questo mare che si chiama il tempo geologico si chiama Pliocene Marino quindi della mare che c'era nel Pliocene se ne trovano tantissimi di questi fossili che dimostrano proprio la presenza del mare lungo l'Appennino Parmense l'Appennino Emiliano Parmense e la zona del Piemonte cioè lungo gli Appennini se si va in mezzo all'Evigno lungo il corso dei torrenti si trovano proprio questi sedimenti che visto che sono molto giovani non sono ancora diventati belli rocce rocce sono ancora un po' delle sabbiette un po' dure un po' no piene di conchiglie marine che ci dimostrano proprio che c'era ancora il mare qui da noi ma vi giuro questa è l'ultima volta che lo vedete l'avevo già detto ma questa è veramente l'ultima volta che lo vediamo intanto cosa succede? succede che la catena alpina si sta sollevando i fiumi portano verso il bale e quindi sollevandosi innalzano il fondo della pianura i fiumi portano verso valle i detriti dell'erosione e la pianura si colma la pianura padana ma si colma quindi sul fondo della pianura padana in realtà abbiamo una zona qui di corrugamento di rocce tutte deformate e piegate che sono gli appennini che si sono deformati che si sono formati per la spinta dell'Africa sopra una bella spalmata di sedimenti marini e poi sopra una bella coltre di depositi invece ghiaie sabbie argille di origine terrestre e qui arriviamo alla fine del mare questo è quello che è successo nella nostra provincia esiste un ultimo grande cambiamento che modellerà la nostra provincia però piace di più agli sciatori questi a chi va in montagna a partire dal Pleistocene il clima terrestre si modificherà molto velocemente ma di questo poi si parlerà nella prossima conferenza ne parlerà il dottor Maffei ci siamo divisi un po' il tempo geologico che parlerà dei cambiamenti climatici nella storia recente lui non sarà tanto lungo come sono stata io prende un arco di tempo più piccolo secondo me però è più piccolo ma è più vicino a noi quindi abbiamo molte più testimonianze quindi sappiamo che in quest'ultima parte della storia della terra si sono verificate molte glaciazioni quindi periodi di caldo e di freddo che si sono susseguiti durante i periodi di freddo di cui l'ultimo è 18.000 anni fa l'ultimo massimo glaciale abbiamo che tutto il nord Europa era coperto da ghiacci enormi ghiacciai e anche tutta la zona delle Alpi i ghiacciai alpini scendevano fino alla pianura andando a modellare la nostra provincia tutta la zona della pianura e andando a lasciarci come ricordo le colline moreniche a sud del lago di Varese e i grandi laghi di origine prima fluviale e poi glaciale che si trovano in tutta la Lombardia e con questo abbiamo visto perché una volta a Varese c'era il mare finito grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti